Questa parte è stata completamente ricostruita, hanno dovuto tirarla, ripararla, fare delle saldature e finire con la stagnatura a caldo. La vettura è molto originale, l'obiettivo del restauro è preservare l'autenticità di questa 500 Superfaste e valorizzare la sua anima originale. Dopo aver esaminato, controllato, restaurato ogni centimetro della carrozzeria, di ogni particolare, la vettura è pronta per la fase di verniciatura che richiederà almeno 3 mesi di lavoro.